Una tragica notte sulle strade cremonesi con ben due incidenti gravi. Intorno alle 3 di domenica mattina un pick-up si è schiantato violentemente contro un'abitazione in via Nazario Sauro a Soncino. Alla guida il 33enne Paolo Carubelli di Ticengo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Nell'affrontare la curva, poco prima dell'ingresso del centro storico, l'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro il muro di una casa. L'urto è stato violento al punto da squarciare la parete esterna del fabbricato. L'auto ha poi preso fuoco e il conducente non ha avuto scampo. Al momento non è chiaro se il 33enne sia morto sul colpo. In ogni caso, l'immediato intervento dei soccorsi, allertati del terribile schianto, non è stato sufficiente a salvargli la vita. I sanitari hanno soccorso poi gli altri quattro passeggeri dell'auto. A bordo, due ragazzi di 20-23 anni e due ragazzi di 27-28. Sul posto, anche i vigili del fuoco. Il ferito grave, residente nel Cremonese, è stato trasportato in elicottero al civile di Brescia. Pochi minuti dopo, intorno alle 3.30, lungo la via Mantova a Cremona, all'altezza dell'incrocio con via Santa Cristina, un ragazzo ha perso il controllo della sua automobile, che si è ribaltata. Coinvolte nell'incidente due vetture, oltre al guidatore di una delle due auto. Feriti altri quattro ragazzi, tutti di età compresa tra i 19 e i 15 anni. Sono stati trasportati all'ospedale maggiore in codice giallo. Sul luogo dell'incidente sono arrivate l'automedica, due ambulanze della Croce Verde, i vigili del fuoco e la polizia di Stato. In corso gli accertamenti per capire l'esatta dinamica dell'incidente.